La settimana si apre con un nuovo grave incidente sulla strada, con un motociclista ad essere soccorso in condizioni preoccupanti, tanto da richiedere il trasferimento in ospedale in codice di massima urgenza. Si tratta di un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni. All'incidente avrebbero assistito automobilisti di passaggio poco prima delle 14. Sono stati loro a fare scattare l'allarme. L'uomo si trova in ricoverato all'ospedale di Vicenza, vista l'esistenza di prestargli assistenza nel reparto rianimazione del San Bortolo, posto i carabinieri della stazione locale per i rilievi. Secondo quanto riferito dal 118, non ci sono altre persone più involte. Grazie.